Queste strutture qui passano sopra tutti quanti noi, però è anche vero che se passano sopra di noi devono fare i conti con noi. Prove di barricate contro l'allargamento dell'autostrada A13 tra Padova e Monsedice. Davide, ovvero Maserà, promette che tenterà di colpire Golia, la SPA Autostrade per l'Italia e i suoi caterpillar con la fionda dei poteri di un sindaco di un comune di 9.000 abitanti. Sono almeno 19 le aziende agricole di Maserà che verranno espropriate. Non dimentichiamo che si trate di agricoltori che per decini, per centinaia di anni hanno coltivato quel terreno ed è un'espropriazione di quello che è non solo un pezzo di terra ma qualcosa che è proprio dei propri genitori e dei propri nonni. Spero si valuti anche questo tipo di esproprio, dice il sindaco veterinario. Par di capire che Maserà chiederà ad Autostrade per l'Italia un indennizzo superiore a quello previsto dalla legge. Quando uno viene nel mio territorio deve chiedere per favore, e l'autostrade non l'ha mai fatto. Sono tanti anni che ho cercato un'interlocuzione con loro e adesso sono costretti in qualche maniera ad arrivare a un certo tipo di colloquio. Per chiudere una strada comunale per un cantiere serve l'autorizzazione del sindaco, sussurra De Paoli a microfoni spenti. Davide prepara la fionda. Davide prepara la fionda. Grazie.